Sì, ma è controllata. Hai visto che forza? Che spettacolo! Ma saremo sicuri? Sì, 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 tutto sotto controllo. Papà! Ma tutto bene, sta tranquillamente. Papà! Papà! Ma a me non sembra... Calma, calma. Papà! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Appoggialo al vorace. Puntalo verso il pianeta. Tienilo. Così è giusto? Sì. Fra cinque minuti... lo vedrai più piccolo. Sì, sì, sì. Grazie a tutti.